L'assessore regionale al welfare Roberto Sant'Angelo ha sottolineato l'importanza strategica dello stabilimento Elfoundry di Avezzano per l'intero tessuto economico abruzzese. Durante una recente visita allo stabilimento Sant'Angelo ha evidenziato come Elfoundry rappresenti un vero e proprio centro di sviluppo economico grazie alla sua capacità di generare occupazione e innovazione. Con circa 1.400 dipendenti Elfoundry non è solo una fonte di lavoro stabile ben retribuita ma offre anche significative opportunità di formazione e crescita professionale. L'azienda infatti investe costantemente nella formazione dei suoi dipendenti promuovendo competenze altamente specializzate nel settore dei semiconduttori, un settore strategico per lo sviluppo tecnologico del futuro. Il contributo di Elfoundry all'economia abruzzese è innegabile. Lo stabilimento infatti incide in modo significativo sul prodotto interno lordo regionale contribuendo per il 10% alla sua crescita. Inoltre Elfoundry è un attore chiave nella transizione digitale e green. L'assessore Sant'Angelo ha definito lo stabilimento un modello di sviluppo di produzione resiliente, sottolineando la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di affrontare le sfide globali. Le prospettive future per Elfoundry sembrano buone. L'azienda infatti sta investendo in nuovi progetti di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di consolidare la propria posizione di leader nel settore e di contribuire alla creazione di un futuro sempre più tecnologico e sostenibile.